Anzio, salvati due bagnanti alle grotte di Nerone. Novavax, insulti ai giornalisti. Nettuno, progetto comune, scrive al prefetto. Nettuno, la Lega dice gravi affermazioni di Ranucci, solidarietà alla polizia locale. Emergenza rifiuti ad Anzio, il sindaco a prefetto e cittadini, aiutateci. Il gruppo ricerche storiche Nettunia trova due reperti a Torre Astura. Il 5 agosto, l'Anzio Calcio in ritiro estivo. Salve amici di Niantv e ben ritrovati con il nostro Tg locale. Andiamo subito a vedere gli aggiornamenti, le ultime notizie. Lorenzo Droghini e Federico Di Girolamo salvano due bagnanti alle grotte di Nerone ad Anzio. Domenica 25 luglio, alle ore 11.30, nella spiaggia libera delle grotte di Nerone ad Anzio, due lifeguard di Anzio, Lorenzo Droghini e Federico Di Girolamo, si sono prodicati in un difficile salvataggio di due bagnanti stranieri che si erano avventurati nelle acque antistanti l'arco muto. I due hanno riportato a riva i due bagnanti che a causa delle condizioni proibitive del mare non riuscivano più a guadagnare la riva. I due giovanissimi lifeguard con perizia e non curanti del mare mosso hanno salvato i due sprovveduti. Si raccomanda sempre la massima prutenza in mare perché basta davvero poco per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. Novavax, insulti ai giornalisti e alla stampa e le autorità che stanno a guardare. Giornalisti terroristi, giornalisti schiavi, giornalisti venduti. Il refrain del sit-in Novavax è stato un continuo inno al giornalista venduto al potere. Nonostante la rilevante copertura mediatica, gli organizzatori guidati anche da Forza Nova e Giuliano Castellino non paghi degli inni, sono sfilati in corteo verso la Rai in una specie di marcia evidentemente scritta nel loro DNA. Sono episodi che ripetono quanto già avvenuto al Circo Massimo e sempre in Piazza del Popolo e in altre manifestazioni Novavax periodiche come le stagioni. Chiediamo però a prefetto e forze dell'ordine come possa ancora avvenire tutto questo. Non solo abbiamo un corteo non autorizzato ma alla guida ci sono anche persone dal curriculum giudiziario tutt'altro che immacolato. Anche per aggressioni ai giornalisti e forse la strategia di guardare e lasciarli sfogare inizi a fare appuni con un minimo di buonsenso e rispetto delle leggi a garanzia di tutti i cittadini e degli operatori dell'informazione. Questo l'intervento della segreteria dell'Associazione Stampa Romana. Nettuno Progetto Comune scrive al prefetto sulle dichiarazioni in assise. Il gruppo consigliare Nettuno, progetto comune immediatamente dopo il Consiglio Comunale ha inviato una formale nota alla Prefettura di Roma. Gravissime le dichiarazioni di un consigliere di maggioranza riguardo presunti condizionamenti della volontà personale e del libero esercizio che sarebbero avvenuti prima del voto del bilancio. Un bilancio invotabile ma ancora più grave è stato il comportamento in aula delle figure istituzionali. Il silenzio del sindaco Coppola costituisce il fatto più grave in assoluto per la reputazione della città di Nettuno. Coppola, che non fa una piega, non proferisce parola, non risponde al consigliere, tra l'altro letto proprio nella lista del sindaco. L'inerzia di Coppola è seguita all'inattività del presidente del Consiglio Barraco e della segreteria comunale che lo assiste in aula, nonché organo anticorruzione e trasparenza dell'ente comunale. Nessun consigliere di maggioranza ha proferito alcuna parola nonostante le nostre rimostranze. Nessuno di loro si è dissociato dalle gravi dichiarazioni, nessuno ha preso le distanze da quanto affermato. Siamo indignati come tanti cittadini, ma ancora di più preoccupati del ritorno di un passato che la città non merita e non vuole. Nettunesi, fate sentire la vostra voce e non abbiate paura. Vincerà la legalità, vinceranno i cittadini. Così, in una nota stampa, i consiglieri di Nettuno, Progetto Comune, Simona Sanetti e Daniele Mancini. Andiamo avanti con le notizie. La lega di Nettuno, gravi affermazioni di Ranucci, dice la lega di Nettuno, solidarietà alla polizia locale. Ci associamo allo sgomento del sindaco per il comportamento serbato dal consigliere Ranucci nella seduta del consiglio di venerdì scorso. In realtà, prima di proferire parola, abbiamo voluto attendere il tempo necessario per capire di cosa in realtà il consigliere stesse parlando e se avesse anche il minimo fondamento. Inoltre, abbiamo atteso per capire e carpire le reazioni dei vari soggetti politici, soprattutto sapere se si è capito la gravità delle accuse mosse. Le forti critiche all'amministrazione e al bilancio possono in qualche modo trovare strada se lette in un'ottica di migliori e maggiori iniziative per il bene comune. Per quanto se ne sarebbe potuto con altri toni, ma di fronte alle pesanti accuse rivolte agli organi di controllo, si perde ogni briciolo di credibilità. Sentire che alcuni preposti al controllo avrebbero tenuto condotte volte a circoscrivere o limitare il proprio potere di autodeterminazione per far votare il bilancio è un'accusa gravissima che deve prima di tutto essere fondata e in ogni caso rivolta nelle sedi e nei modi opportuni non lanciata senza rispetto degli organi preposti al controllo. Crediamo quinti sia doveroso da parte del consigliere Ranucci spiegare meglio a cosa si riferisse indicando nomi e cognomi, luoghi e circostanze perché quando si fa un'accusa peraltro così grave questa va argomentata e supportata dai fatti. Altrimenti il tutto si riduce al solo e misero tentativo di diffamare la città di Nettuno nello specifico l'istituzione del corpo della polizia locale così in una nota stampa Luca Zomparelli e Lorenza Alessandrini della Lega Salvini Premier Nettuno. Parliamo ora dell'emergenza rifiuti ad Anzio. Il sindaco al prefetto e ai cittadini dice aiutateci. A fronte di un fabbisogno settimanale che in questo delicato momento sfiora le 400 tonnellate di rifiuti i cosiddetti indifferenziati la regione Lazio ente preposto al piano dei rifiuti ci consente di conferire soltanto 150 tonnellate a settimana in un impianto alternativo a quello di Aprilia. Si tratta di una problematica grave che fino alla prima decada di agosto causerà numerosi disagi al nostro territorio, alle attività commerciali, all'economia del mare e dall'amministrazione in piena stagione estiva nel corso dell'emergenza pandemica. Lo ha affermato il sindaco di Anzio Candido De Angelis che venerdì scorso ha nuovamente scritto al prefetto di Roma per segnalare l'emergenza in corso e per chiedere il supporto concreto di tutte le istituzioni preposte. Invito la cittadinanza a tutta, prosegue poi il sindaco, a differenziare il più possibile i rifiuti prodotti limitando al minimo l'indifferenziato. Mai come in questo momento è necessario il massimo impegno di tutti, cittadini, attività, operatori ecologici ed amministrazione. Nessuno si salva da solo abbandonando i rifiuti lungo la strada e danno delle collettività. Il gruppo ricerche storiche Nettunia rinviene due reperti storici a Torre Astura a Nettuno. In occasione della giornata organizzata dall'associazione gruppo ricerche storiche Nettunia e della Ollus Plastic Free c'è stata un'ottima partecipazione dalle persone iscritte alle associazioni ma anche da chi ha voluto intervenire al di fuori per dare una mano. Per non smentirci mai abbiamo rinvenuto in loco in zona di sbarco alleato USA due reperti uno abbastanza riconoscibile è parte di un'intelaiatura di grelle per la movimentazione di mezzi ma l'altro ci incuriosisce in quanto a nostro parere è riconducibili alle medesime operazioni di sbarco ma non lo abbiamo identificato con certezza il materiale è rete di acciaio con una cornice di lega crediamo ottone e un lamierino di ferro con anche una guarnizione massiccia in gomma. siamo stati onorati anche di aver avuto un buon coinvolgimento dall'amministrazione comunale di città di Nettuno con la presenza del primo cittadino Alessandro Coppola sindaco di Nettuno e dell'assessore all'ambiente Claudio Dell'Uomo assessore al comune di Nettuno grazie a tutti per aver fatto sì che l'evento riuscisse un grazie particolare anche ai ragazzi di Barcaioli Torre Astura e a Fausto e il salvamento Nettuno Anzio che ci hanno supportato tutto il tempo siamo convinti che con le persone giuste si possa fare tanto e oggi ne abbiamo avuto la prova questo è il post pubblicato dall'associazione gruppo ricerche storiche Nettunia dopo la giornata di pulizia e bonifica a Torre Astura Parliamo ora di sport Lanzio Calcio in ritiro estivo si parte il 5 agosto ecco il calendario delle amichevoli Inizierà il prossimo 5 agosto la preparazione estiva del Lanzio in vista della stagione 2021-2022 che prenderà ufficialmente il via il 5 settembre con la Coppa Italia di eccellenza fino al 7 agosto i ragazzi di Mister Guida sosterranno i consueti test di rito per poi cominciare le sedute di allenamento a partire dal lunedì 9 agosto 4 le amichevoli già programmate dalla società alle quali si aggiunge il test in famiglia del 13 agosto sabato 21 agosto al Bruschini arriverà il Palocco squadra romana iscritta al campionato di promozione e che nella passata stagione si trovava in vetta a punteggio pieno prima della sospensione definitiva del torneo giovedì 26 sempre al Bruschini sarà Scena e il Pumezia tra le società che hanno preso parte al mini campionato di eccellenza da 10 partite concluso lo scorso giugno due giorni dopo l'unica trasferta in casa del Terracina altra formazione della massima serie e infine chiusura con un'altra squadra di promozione il città di Pumezia di nuovo al Bruschini questa era l'ultima notizia io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi rimando alle prossime edizioni del nostro TG Locale grazie a tutti grazie a tutti